Ciao a tutti da Manuel. Oggi vedremo come ripristinare le rasature di una parete interna di casa. In questi casi è fondamentale intervenire tempestivamente in maniera precisa ed efficace, mediante un apposito repristino della rasatura. Fase 1. È necessario preparare le superfici rimuovendo la pittura o il rivestimento nelle zone incoerenti, ammalorate o in fase di distacco, utilizzando una spazzola di ferro, una spatola oppure una lama. Fase 2. Se il supporto è particolarmente assorbente, come gesso oppure sottofondo cementizio poroso, è consigliabile trattarlo con un apposito primer di preparazione, che ne migliori l'isolamento. Non useremo il fissativo diluito con acqua 1 a 4. Dopo aver applicato il nostro primer, faremo asciugare il tutto per circa 2 ore. Fase 3. Applicheremo la prima mano di rasante con un prodotto a base di stucco, cercando di creare uno spessore di alcuni millimetri, con l'aiuto di una spatola e di una caloscia. Completata la prima rasatura, lasceremo asciugare per circa un giorno. Fase 4. Ora con l'ultima mano di rasante, cercheremo di uniformare il tutto. Fase 5. Una volta ben asciutta la rasatura, daremo ancora una mano di primer fissativo, sempre diluito 1 a 4 con acqua, per far aggrappare meglio le successive mani di idropittura. Fase 5. Una volta ben asciugare il tutto.